Il sindaco di Mascari Luigi Messina non lesina rimproveri nei confronti dei consiglieri di minoranza e i nostri microfoni. Li accusa apertamente di essere colpevoli della mancata approvazione dell'adozione del programma del piano triannale delle opere pubbliche 2017-2019 e del relativo piano annuale 2017, di conseguenza anche del bilancio previsionale finanziario 2017-2019. La conseguenza immediata di quel voto è stato che noi avevamo già le carte pronde per mandare in gara via Vespucci e questo non è avvenuto perché abbiamo dovuto rinviare tutto con la bocciatura del piano triannale che è stata bocciata dai consiglieri d'opposizione, compreso il consigliere Nigri che si è sempre vandato di portare avanti questa istanza ma in realtà ha solo fatto chiacchiere in consiglio comunale nel momento in cui c'erano i fatti da fare e ha votato contro. Questo ha determinato uno slittamento sicuramente di qualche mese per la gara, per l'inizio delle procedure di gara ma nello stesso tempo noi l'indomani immediatamente abbiamo riapprovato il piano triannale, abbiamo pubblicato il piano triannale e ora abbiamo presentato anche delle variazioni che comportavano all'interno del bilancio di previsione 2017 che erano coinvolte al piano triennale perché si intersegono l'uno con l'altro e pertanto stiamo andando di nuovo in consiglio giorno 30. È ovvio che è un bilancio che è a pareggio, è un bilancio che comunque mostra un aspetto che comunque ha degli aspetti positivi per il territorio. Poi se i consiglieri dell'opposizione sono così bravi di fare sempre le pulci negli atti dell'amministrazione che li facciano sperando che li fanno a beneficio della collettività. Ad oggi credo che questi rinvii, queste azioni, tutti i problemi che si sono innescati, il bene della collettività non credo che possano essere facilmente trovati, che poi ci possono essere degli errori. Come ogni buona famiglia tutto non può essere alla perfezione. Ci sono consiglieri comunali che tendono alla perfezione e noi anche tendiamo alla perfezione come amministrazione. Ma tendere alla perfezione non significa avere tutti gli atti che magari dove con le pulci che cercano non possono essere trovate. Il prossimo consiglio comunale si svolgerà martedì prossimo 30 gennaio e all'ordine del giorno ci sarà proprio l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e del bilancio finanziario.